Tornare a valorizzare i ragazzi del proprio settore giovanile è uno degli obiettivi che il Pescara vuole centrare nella prossima stagione ed è uno dei motivi che hanno spinto il presidente Daniele Sebastiani a dare fiducia a Luciano Zauri. Il neo allenatore sarà presentato nei prossimi giorni e dopo aver vinto il campionato Primavera 2 potrà contare in prima squadra sull'apporto di alcuni di quei gioiellini che sono stati funzionali alla vittoria nel testa a testa con la Lazio. Lo stesso Sebastiani giorni fa ha ammesso che uno dei principali rammarichi della stagione appena chiusa, per quanto positiva, e il non aver visto l'impiego di ragazzi del settore giovanile. I vari Borrelli, Pavone, Camilleri, Pierpaoli, Maraffini si sono sovente allenati con la prima squadra agli ordini di Pillon ma non hanno debuttato. Certo, oltre che un allenatore che abbia quella propensione c'è anche bisogno di strutturare una rosa ad hoc dove ci sia spazio anche per loro. Un nucleo forte di giocatori esperti per la categoria, giovani anche in prestito da altre squadre e giovani del Pescara. Il mix deve essere equilibrato. Nell'ultima stagione, tra i prestiti delle altre squadre ad esempio, hanno faticato a trovare spazio giocatori come Melegoni e Del Sole. Bettella ha giocato solo nell'ultimo mese. Dopo l'arrivo di Sottili si sono praticamente chiusi gli spazi per Antonucci. E Lisalde, che è di proprietà del Pescara, non ha giocato un singolo minuto in campionato. Insomma, più sono i prestiti da club di Serie A, che comunque sono utili, minori sono gli spazi per i baby biancazzurri. Va trovato, come detto, il giusto equilibrio e in tale direzione dovranno lavorare il presidente Daniele Sebastiani, il DS Inpectore Antonio Bocchetti e il direttore dell'area tecnica Giorgio Repetto. Certo, non si può prescindere dai risultati. Dopo il quinto posto di questo campionato, poi tramutato in quarto dopo la penalizzazione del Palermo e la conseguente disputa della semifinale play-off, la piazza si aspetta un campionato ambizioso. Forse lo era anche l'ultimo, ma la salvezza all'ultima giornata di 12 mesi fa aveva permesso lo scorso luglio una partenza a luci spente. Ora ci saranno maggiori aspettative che potrebbero essere alimentate dal mercato. Dopo le cessioni di Macin e Gravion dello scorso gennaio, un ulteriore tesoretto potrebbe essere utilizzato in caso di cessioni di Gaston Bruckman. La scorsa settimana il procuratore del Capitano, l'agente Silvio Pagliari, ha incontrato i dirigenti biancazzurri. Il giocatore, il cui contratto scade nel giugno 2022, è sulla soglia dei 27 anni e potrebbe essere prossimo al salto di qualità. Non è una novità che Roberto D'Aversa ne abbia grande stima e Parma potrebbe essere una destinazione gradita al Capitano Biancazzurro. Un sacrificio tecnico che potrà portare nelle casse del Pescara una somma superiore ai 2 milioni di euro. Grazie.